Dopo cinque anni dalla pubblicazione del mio ultimo album, Random, che era un tributo alla musica pop italiana, mi sono riappropriata di quella che è un po' la mia natura, il mio territorio, che è il jazz. Questa volta invece è un album completamente differente, un tributo alla musica jazz. Ho scelto brani standard, infatti il titolo del disco è Song in my heart, perché sono brani che io amo molto, che ho nel cuore. Anche questa volta mi sono avvalsa della collaborazione di musicisti, dai quali io un po' non riesco a prescindere, perché sono musicisti con i quali ho un grandissimo sodalizio artistico, una grandissima stima e con i quali ho anche una grande amicizia. E sono Andrea Benedentano, che è l'arrangiatore di tutti i brani ed insieme abbiamo impostato il progetto. Francesco Puglisi al contrabbasso, Alessandro Marzia alla batteria, questa è la ritmica che da sempre mi accompagna. E poi ho voluto, questa volta, avere a fianco a me dei solisti con i quali invece non avevo mai collaborato, sono Antonello Salis alla Chiesa Armonica e Giancarlo Maurino alla sax soprano. La cosa bellissima di quando si registra, almeno in questo disco, poi è stata quella di trovare delle soluzioni anche appunto estemporane ed alcuni brani sono venuti fuori proprio così, come mettere sull'idea per un'introduzione. Con Antonello, per esempio, abbiamo registrato l'introduzione di un brano che è What is a Sphinca on Love di Cole Porter e abbiamo detto, beh, facciamo questa cosa io e te da soli e poi entrano tutti gli altri. E invece questa cosa in realtà poi ha dato vita ad un brano, ad un brano a sé, che abbiamo intitolato Preludio. Ho voluto inserire un brano di mia composizione in lingua portoghese, grazie anche alla cantante Claudia Mars che mi ha aiutato nella stesura del testo, anzi il testo è proprio suo, perché ho voluto anche questa volta rendere omaggio alla musica brasiliana, che è una musica che amo. Mi è piaciuto molto lavorare con loro, come sempre, ma principalmente mi è piaciuto avere a fianco appunto un artista come Antonello, perché a parte persona splendida, genuina, molto eclettico, mi piace questo suono aspro e questa sua originalità anche nel suonare, nell'approccio armonico, che si sposa molto con l'atmosfera del disco e il suono. e verrà distribuito in Italia, chiaramente, Inghilterra, Stati Uniti, Belgio, Taiwan, Hong Kong e quindi devo ringraziare per questo l'albore jazz e Satoshi Toyoda, a cui do un caro saluto. a cui do un caro saluto.